Musica Un cordiale saluto dalla redazione, buongiorno a tutti, ben ritrovati a questo appuntamento con l'informazione oggi è mercoledì 14 giugno e questa è la rassegna stampa di Fano TV sul canale 17 visibile in tutta la regione Marche allora cominciamo dal santo del giorno, vediamolo subito oggi la chiesa ricorda Sant'Eliseo profeta, il sole è sorto le 5.24 e tramonterà le 20.52 attenzione il tempo cambia, oggi avremo rovescio temporale pomeridiani sparsi sulle zone appenniniche e poi dal tardo pomeriggio anche sulla fascia collinare e costiera centro settentrionale della regione le temperature sono in lieve diminuzione le massime il mare poco mosso o mosso sulla costa settentrionale domani ancora tempo perturbato soprattutto nel primo pomeriggio con rovescio temporale sparsi nelle zone interne le temperature sono ancora in lieve diminuzione nei massimi e stazionari invece nei minimi i venti di brezza leggere, il mare sarà poco mosso torna il tempo bello invece per il fine settimana venerdì 16 avremo un cielo sereno poco nuvoloso il transito invece di aria fredda lungo le regioni balcaniche determinerà un peggioramento per sabato con rovescio temporale sparsi seguito da un miglioramento per domenica però con aria più fresca ed asciutta i giornali, cominciamo dal resto del Carlino di Pesaro questa è la fotonotizia la siringa alla gola, rapina in pieno centro tabaccaio reagisce, mette in fuga il malvivente poi arrestato in via Branca il comune rinvia al 30 giugno invece il pagamento della Tari scadenze di fine mese ci sono file e proteste a Pesaro bollettini in ritardo utenti esasperati alle casse l'assessore del comune di Pesaro dice tranquilli diamo più tempo per pagare sul bimbo morto di Cagli invece si scatena la guerra delle perizie sono stati nominati diversi luminari da Fano invece la morte di Rodolfo Cangiotti 49enne da 35 anni dipendente della Profilglas a Bellocchi di Fano è morto per uno schiacciamento questo almeno è l'esito dell'autopsia sul corpo di Cangiotti la dinamica però resta ancora incerta è morto per traumi da schiacciamento del torace e del cranio ad uccidere appunto ad uccidere Rodolfo Cangiotti è stato questo carico di circa 4 quintali tra bancale di legno e una ventina di balle di lana di roccia che gli è caduto addosso dall'alto dei bracci del suo muletto lo ha stabilito l'autopsia eseguita ieri pomeriggio dal medico logale nominato dalla Procura di Pesaro Marco Valsecchi e mentre c'era il sopraluogo della Procura c'è stato un altro infortunio per fortuna niente di grave la vittima di questo incidente di ieri è sempre un fanese dipendente della Profilglas che era alla guida di un muletto c'è una maxi antenna nel quartiere della Trave a Fano che sta togliendo il sonno a un po' di residenti qui ci si ammala toglietela sono impauriti a casa racconta una persona la TV si è accesa da sola viene monitorata ogni anno e l'ARPAM misura gratuitamente le emissioni nelle case dunque se avete dei dubbi questo lo diciamo anche per non creare allarmismi se avete dei dubbi volete fare delle misurazioni dentro casa per vedere quanti segnali quanto arriva dentro casa c'è un numero di telefono che adesso potete anche segnarvi se volete eccolo qua lo chiamate e vengono quelli dell'ARPAM a fare un controllo gratuito eccolo qua il numero di telefono 0721-887-438 887-438 è il numero del comune di Fano al quale voi potete chiamare e dire mi venite a controllare per favore quante emissioni quanto inquinamento c'è dentro casa e loro vengono a farvi questa misurazione poco distante al circolo tennis non è ancora stata riallacciata la corrente ieri al circolo tennis della trave era ancora in funzione il gruppo elettrogeno attivato nei giorni scorsi dopo il distacco della corrente elettrica per il mancato pagamento di una bolletta da 8 mila euro da Fossombrone invece ospedale posti letto dimezzati in estate c'è questo intervento di Saverio Bossi del comitato provinciale dei cittadini pro ospedali pubblici che dice l'allarme per gli anziani con questo caldo è già scattato visto che la canicola mette a dura prova la loro resistenza i più a rischio e risaputo sono i malati cronici cardiopatici diabetici con patologie osteo-articolari quelli che per un sistema immunitario precario rischiano ogni volta che si prendono anche una banale influenza ebbene d'estate i ricoveri aumentano del 20-30% ora la domanda di Bossi è l'ospedale di comunità di Fossombrone come è pronto ad affrontare questa emergenza? la prima pagina del Carlino è sulla rapina con la siringa e allora vediamola questa notizia all'interno del giornale tenta rapina con la siringa arrestato ma ovviamente il 43 ne rompe nel tabacchi di via Cattaneo a Pesaro il titolare lo prende a sediate è successo a Walter Casoli di 62 anni lui dice mi sono trovato questo tizio con il cappellino in testa ridosso della bacheca dei grattevinci gli ho detto cosa volesse ha estratto qualcosa forse una siringa un coltello adesso non lo so e me l'ha puntato sotto la gola lui cosa ha fatto? ha preso lo sgabello gliel'ha tirato nella schiena il Corriere Adriatico invece cambiamo giornale la pagina principale la prima pagina di edizione di Pesaro è sulla Tari che slitta il 30 giugno e non ci saranno sanzioni la decisione dopo i ritardi nel recapito delle bollette poi anche qui la cronaca con l'assalto al tabaccaio e sotto invece lo vedremo tra poco nella cronaca di Senigallia denunciata o meglio denuncia 12 volte il marito e lui la uccide colpa dei PM magistrati condannati non l'hanno fermato l'omicidio è avvenuto in Sicilia ma la famiglia vive a Senigallia tra poco lo vedremo nelle pagine interne allora la pagina di Fano invece picco di domande ma l'offerta è limitata parliamo ancora oggi degli impianti sportivi il Corriere si sofferma così come ha fatto ieri sulla datazione di questi impianti sono tutti degli anni 70-80 impianti sportivi fermi a 40 anni fa competizioni ufficiali dunque negate o in deroga la mappa delle strutture è ricca di disagi solo il tiro a volo a Fano è di ultima generazione poi invece il Palace le piste, le piscine sono tutte datate anni 70-80 mentre l'asfalto leggero quello che è stato tanto sponsorizzato mentre lo stavano sistemando lungo le strade fanesi l'asfalto leggero è già consumato ed è tutto come prima ci sono segni di cedimento sulle opere eseguite meno di un anno fa e il Movimento 5 Stelle di Fano attacca il Sindaco Seri e l'assessore ai lavori pubblici Cristian Fanesi sulla tragedia alla Profiglass invece restano i dubbi la dinamica della morte è ancora incerta l'autopsia non chiarisce l'attenzione si è concentrata sulla ferita alla testa dell'operaio Cangiotti il luogo dell'incidente è analizzato per oltre 4 ore mentre i sindacati dicono vigileremo su tutti i lavoratori del gruppo Paci la novità per quanto riguarda le feste, le iniziative gli eventi in programma a Fano durante l'estate c'è questa novità che è la fiera di San Bartolomeo che durerà soltanto si svolgerà in due giornate non più tre il 25 ed il 26 di agosto rimane invariato invece il luogo cioè il lungomare Adriatico e il viale Dante Lighieri nonostante che gli albergatori avessero chiesto di spostare almeno una parte della fiera di San Bartolomeo in centro storico sono stati presentati dicevo tutti gli eventi prolungato anche il carnevale estivo dalla valle del Cesano invece il dopo elezioni amministrative da terre roveresche il neosindaco Antonio Sebastianelli accelera subito dice faremo la giunta entro il fine settimana il neosindaco vuole iniziare a lavorare su voragine, sulle strade e sulle scuole, sulla scuola mentre a Mondolfo l'assessore Carlo Di Otallevi deve un po' rassicurare gli animi di alcuni di alcuni componenti di un comitato che sulla questione dei migranti che lo ricordiamo ne arrivano a flotte ogni giorno a flotte tantissime persone ne arrivano ogni giorno sbarcano sulle nostre coste da qualche parte bisognerà pure sistemare e accoglierli so che sono impopolare so che sto dicendo una cosa che farà arrabbiare qualcuno ma è così il comitato insorge la replica solo allarmismo Di Otallevi dice ci vuole trasparenza ok però qui ci sono rifugiati ma nel caso vi avviseremo non stiamo nascondendo nulla non stiamo preparando nulla che non sia sotto la luce del sole comunque ad oggi dice Di Otallevi non abbiamo nessuna comunicazione ufficiale della prefettura dell'arrivo di profughi richiedenti asilo sul nostro territorio cioè sul comune di Mondolfo al momento nel nostro comune a differenza di altri non ne abbiamo nessuno quindi non ci sono migranti non ci sono profughi i 18 che sono arrivati il 9 ottobre scorso se ne sono andati il 31 di dicembre da Senigallia dicevamo di questa notizia uccisa dal marito condannati PM lei lo aveva denunciato 12 volte per i giudici di Messina devono pagare un risarcimento di 250 mila euro ai figli che abitano a Senigallia e la povera donna Marianna Manduca accoltellata a morte dal marito la potete vedere in questa fotografia pubblicata questa mattina sulla pagina di Senigallia del Corriere Adriatico il tutore dice era ora altre donne adesso si salveranno mentre sempre dalla cronaca di Senigallia guardate questa fotografia sgranata volutamente sgranata per preservare un po' la privacy di questi minorenni saltano sui binari senza guardare l'ultima follia un gioco di gruppo il racconto di un ferroviere che dice e racconta sono notte allucinanti ubriachi giovanissimi eccessi anche nel lungomare di Senigallia e la polizia indaga su questi fatti accaduti nell'ultimo fine settimana mentre la cronaca sotto ci riporta una bicicletta un ciclista che ha attraversato ed è stato si è scontrato con uno scooter arriva l'ambulanza per il diciottenne Promessa del Marina perché Promessa del Marina è un calciatore quello che è volato dallo scooter ha riportato la frattura del setto nasale questo diciottenne giovane Promessa del Marina calcio nella categoria Juniores che nel primo pomeriggio di ieri è rimasto coinvolto appunto in questo incidente da Urbino il sindaco Gambini blinda la presidente del consiglio comunale Elisabetta Foschi oggi si vota sulla revoca del suo mandato del suo presidente del consiglio sotto accusa per la rovente seduta del 29 di maggio dove lo ricordiamo Sgarbi ha iniziato il suo show con il suo anche insomma turpiloquio un po' classico di Sgarbi che non è stato ha detto delle opposizioni insomma bloccato e gestito a dovere dal presidente del consiglio oggi c'è alle 15 nella sala Serpieri la civica sise è convocata con appunto l'ordine del giorno la proposta di revoca del presidente del consiglio comunale i sensi dell'articolo 9 eccetera eccetera ok andiamo sull'altra pagina di Urbino invece a Schieti c'è il paglio dei trampoli che compie 20 anni un traguardo importante per una piccola comunità come quella di Schieti Filippini vuole riportarlo a casa dopo la vittoria del Toscano Pigliacelli ok andiamo sulle pagine di sport sono tre pagine di sport velocissime allora la prima è quella che riguarda il Fano il Fano che aspetta ancora la decisione di Gabellini il presidente che aveva già detto mesi fa che avrebbe lasciato a fine campionato la squadra del Fano dopo l'olito spunta Cellino la decisione del presidente tarda però ad arrivare anche l'ex Cagliari e le sarebbe interessato mentre c'è nella pagina di Pesaro del Corriere Adriato la notizia che purtroppo la VL perde uno sponsor e quindi automaticamente perde dei soldi e neanche pochi mezzo milione di euro sono quelli che ha versato la Consult Invest che non li garantirà più ora manca il main sponsor lo sponsor principale intanto Hackett torna a Pesaro sono molto contento che l'ECA sia stato confermato nella foto invece Ario Costa presidente della VL dopo il passo indietro dello sponsor il futuro è per la squadra di basket pesarese ancora incerto mentre un flash per la palla a volo dove da Civitanova esce o meglio dall'ultima finale under 18 che si è disputata al palazzetto dello sport di Fano è uscita l'altra Lube che vince la squadra di Gianni Rosichini l'allenatore lo vedete è questo signore qua che ha vinto ha sempre vinto 11 titoli italiani su un totale di 15 conquistati a livello giovanile dalla Lube portano la firma di questo signore di questo allenatore di questo coach che si chiama Gianni Rosichini è l'allenatore maceratese nei primi anni della storia della Lube VL che ha guidato i vari settori nelle storiche promozioni dalla serie C alla serie A2 per poi dedicarsi al settore giovanile direi che possiamo fermarci qui con la rassegna stampa è tutto grazie per averci seguito vi ricordo questa sera l'appuntamento con il telegiornale e il numero 338 49 68 250 per le vostre segnalazioni grazie per averci seguito a voi tutti gli auguri di una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti